Ciao amici e bentornati su Balconi TV di Roma, io sono Mika, questo è il terrazzo del Marti Spa, la sua tele, oggi ci è passato a trovare Tommaso Cunio, buon suo. Ciao, ciao Mika, ciao a tutti, bene, tutto bene, tu come stai? Io sono carica, sono contenta che tu sei qua, perché ho un po' di domande scomode da farti, non è vero, che cosa ci regali? Mi regali? Allora, oggi vi suono una canzone che si chiama Just Like The Snow, è una canzone che è già nel mio primo disco, un disco che è uscito quattro anni fa e si può trovare su YouTube, su Bandcamp. Poi ce lo dirai, poi ve lo dico. Tu suona e poi facciamo un po' di chiacchiere, va bene? Ok, la canzone è Just Like The Snow. Ok, proprio come adesso. Esatto. Softly talking, now the earth's horizon's listening to us, We are like the sky, we are like the sky, we are like the sky, frozen tears, fall down from ice, melt your sin. And let's show the trees, and let's show the trees, we are like the sky. We are like snow, just like the sky. We are like the sky, just like the sky. Grazie a tutti We're like snow Just like the snow 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 We're like snow Forse già mi sento un po' più fresca Just like the snow An age thing Tuo disco Uccito quattro anni fa Però so che sei un uomo molto impegnato Vorresti dedicare più tempo a questo progetto Canto autorale Però fai anche altre cose Molto belle Tra l'altro che lavori con i bambini Ci vuoi raccontare un po' di cose? Sì, io da Diciamo da un paio d'anni Porto in giro anche uno spettacolo Nelle scuole Per i ragazzi Con Giorgio Colangeli E' uno spettacolo di teatro Teatro e musica E' un piacere farlo Poi c'è Giorgio E' bravissimo E quindi sì Mi dedico anche a quello E anche ai miei pezzi In che senso Vorrei suonarli un po' di più Ma sono molto contento di stare oggi qui a Balconi Noi siamo contenti di averti Soprattutto perché queste camicette Oggi sono venuti tutti con le camicette molto belle Hai visto? Però c'è una novità Nel senso tu hai suonato questa canzone vecchia Però su YouTube già si trova Hai rilasciato un singolo nuovo Cioè Sì Così l'hai buttato giusto per Per capire se registrare un disco o no Allora O come funziona a giornali Dopo l'estate uscirà un altro mio disco Ma intanto si può già sentire il singolo Che è Cordelia E si può trovare su YouTube Insomma e ascoltarlo lì Ma quindi è già pronto il disco? Questo non lo sapevo Il disco sì Diciamo che Al 90% è pronto Quindi tra un po' vedrà la luce Ci vuoi rivelare il nome almeno? Il nome? No Non lo rivelo Non lo rivelo Che cattiveria In realtà sono indeciso su alcuni nomi Quindi ancora non Non c'ho il nome definitivo Va bene Va bene Allora poi ci scriveremo E me lo darai il nome Così lo riveliamo noi su Balconi TV Certo Va bene Come anteprima Ok Allora io ti ringrazio davvero di essere stato il nostro ospite Grazie a voi Ringrazio tutti i tuoi amici Boy Scout Che sono qua presenti Tutti Tutti quanti Va bene Esatto E ci vediamo la prossima puntata Di Balconi TV Anche con voi Sempre al terrazzo di Martis Palace Hotel Io sono Mika E ringrazio ancora i miei acconciatori Contesta Rockhead Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao Grazie Ciao